Ecco cosa succederà nei prossimi minuti. Vi racconterò dieci cose che riguardano le CPU moderne, in generale le CPU ormai da diversi anni a questa parte, che dovete assolutamente sapere se volete comprarne una nuova per assemblare un nuovo PC o aggiornarne uno vecchio, tutte cose che vi permetteranno di fare una scelta giusta, una scelta ponderata, nonché chiaramente vi metteranno nella condizione di affrontare meglio le decisioni o chi vi consiglierà di acquistare l'uno o l'altro modello di CPU. Se siete dei super appassionati nel mondo dei processori, probabilmente saranno cose che già saprete, ma visti molti messaggi che ricevo, credo che per molti questo video potrà tornare utile. Prima di partire vi ricordo che se troverete questo video utile, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, fa bene chiaramente per l'algoritmo di Google e se volete fare anche qualcosa di più, ci attivo lo strumento dei super grazie. Comprare un processore basandovi sulla velocità massima indicata in GHz è sbagliato. Tutto ciò valeva tanti anni fa, dove tutte le applicazioni erano single thread, non sfruttavano più core e non c'erano differenze sostanziali sulle prestazioni portate da un'architettura più efficiente. Oggi una differenza in termini di Mega e GHz, certo può ancora esserci, ma solo è quando si considerano due processori identici, la cui differenza è unicamente la velocità massima. Oltretutto ciò varrebbe quasi esclusivamente per carichi single thread e se il processore è abbinato a un sistema di raffreddamento adeguato e un'alimentazione adeguata, poiché con i processori moderni tutte queste cose sono collegate e dipendenti tra loro. Capite bene che in questa situazione dire più GHz uguale più prestazioni è decisamente sbagliato. Alla stessa maniera non possiamo dire che più core ci sono, più prestazioni quel processore può fornire. In aggiunta a quanto ho detto poco fa sulla velocità, per quanto riguarda i core è tutto molto legato alle applicazioni che si vogliono utilizzare perché avere 4, 8, 20 core non significa utilizzarli veramente tutti e sempre. Un'applicazione, un videogioco deve essere programmato, deve essere ottimizzato per utilizzare quei core e oggi vi assicuro che la situazione è ancora tutt'altro che positiva sotto questo aspetto. Mediamente oggi sono le applicazioni professionali e quelle scientifiche che sono in grado di sfruttare veramente tanti core mentre le applicazioni più consumer sono limitate a pochi core e per quanto riguarda i videogiochi ne parleremo fra poco. E' quindi sensato oggi optare per processori con un numero di core medio, diciamo così, in base al mercato perché prendere processori con tantissimi core per un uso normale del PC non porta reali vantaggi. Se cercate un processore da usare quasi esclusivamente con i videogiochi sappiate che la quantità di giochi ottimizzata per sfruttare bene il multi core è veramente bassissima. La maggior parte dei giochi usano uno o due core, non di più. Quindi ha senso optare per un processore con molti core se oltre a giocare si vuole fare anche altro. Al contrario non è una caratteristica su cui bisogna pretendere molto, diciamo così, bensì sono altre in questo ambito le caratteristiche da considerare importanti. Sempre in ambito dei videogiochi acquistare un processore super potente quindi anche super costoso perché come dire si fa il parallelo più è potente quindi più costoso e più fps e prestazioni si possono avere nei giochi è sbagliato. Il processore, l'ho già detto in questo caso, in tanti altri video si possono vedere anche in un sacco di test, ha un ruolo marginale rispetto agli altri componenti, rispetto soprattutto alla scheda grafica nell'ambito dei videogiochi. Il discorso qui chiaramente si fa complesso quindi riduciamolo ai minimi termini. Più la risoluzione è alta meno il processore è importante. Ad esempio se avete un monitor, giocate, risoluzione 4K, l'intervento del processore è veramente molto marginale. Diventa un po' più importante quando si tiene la risoluzione bassa o con alcuni videogiochi. Anche alcuni di questi molto giocati, sia chiaro, ma se prendiamo il 100% dei videogiochi disponibili sul mercato, per la stragrande maggioranza la scheda grafica è praticamente responsabile della quasi totalità delle prestazioni. Ormai da alcuni anni si diversificano le CPU normali con quelle da overclock, ad esempio la serie K di Intel, la cui peculiarità è avere il moltiplicatore sbloccato e che quindi permettono di aumentare la velocità in GHz più facilmente, quindi overclock più facile. Fare overclock non significa cliccare un tasto in due secondi e avere delle prestazioni molto più elevate. Un overclock fatto bene deve avere una scheda madre di alto livello, una buona memoria, un ottimo alimentatore, un ottimo sistema di raffreddamento, insomma deve essere tutto di un certo livello. E le prestazioni in più che si possono ottenere sono mediamente limitate, a meno che chiaramente non fate overclock molto 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 spinto, che però amplifica tutto quello detto finora, quindi non avete bisogno ad esempio di un raffreddamento buono, ma di un raffreddamento super. Quindi prendere un processore sbloccato solo per fare un po' di overclock o nessun overclock non ha senso. In tanti casi è vero, ma non è una regola e in alcuni casi retabili al contrario. Se state comprando un pc con un processore potente, non per forza avete bisogno di un sistema di raffreddamento liquido. Ci sono degli ottimi dissipatori ad aria e solitamente a parità di prezzo si può acquistare un dissipatore ad aria migliore rispetto uno a liquido. Possiamo anche considerare che un dissipatore ad aria di fascia alta, solitamente, mediamente, in termini di prezzo, corrisponde a un dissipatore a liquido all-in-one di fascia economica o poco più. C'è un valore che spesso erroneamente viene letto come il consumo di quel componente, cioè il TDP, sigla che sta per Thermal Design Power. Questo valore è indicato su tutti i componenti, su tutti i siti dei produttori ed è espresso in Watt. Se un processore ha un TDP di 60, 90, 120 Watt, quello che volete, non significa che quando funziona consuma questa energia, questi Watt in potenza. Il TDP indica il massimo calore che un processore può generare, sotto carico massimo, ed è espresso in potenza termica e si usa il Watt per indicare questa potenza termica. Questa indicazione serve principalmente per dare delle indicazioni in termini di dissipatore, poiché all'aumentare del TDP deve aumentare l'efficienza, la potenza del dissipatore, che chiaramente deve dissipare, deve raffreddare il calore generato dal processore durante il suo funzionamento. C'è, in linea teorica, molto un po' alla lontana, una connessione tra TDP e consumo, nel senso che più il TDP è alto, più il consumo del processore è alto, o meglio è potenzialmente alto, perché ricordiamoci che questo TDP indica il valore massimo per cui quel prodotto è stato concepito. Quindi, dire questo processore ha un TDP di 30 Watt e più alto dell'altro, quindi consuma di più, consuma 30 Watt in più, o dire questo processore ha un TDP di 90 Watt e quindi significa che consuma 90 Watt è sbagliato. Chiaramente quel Watt porta a, come dire, fare questa confusione. A volte il consumo medio del processore è simile al numero indicato dal TDP, ma è più un caso che una correlazione pura. Inoltre, ricordiamoci che il consumo del processore cambia in maniera enorme in base al carico, cioè a quello che state facendo con il PC. A volte è bassissimo, è uguale anche per processori molto differenti, a volte invece è molto alto. In ogni caso, ricordiamoci, TDP uguale consumo del processore, sbagliato. Chiarito il concetto di TDP, ci sono molti tester e recensori che mostrano i consumi massimi e minimi di un componente o anche i valori medi durante un test specifico. Tutto ciò è sicuramente molto utile per identificare quale componente è più efficiente dell'altro, cioè quale componente a parità di consumo è in grado di offrire maggiori prestazioni. Sintomo che solitamente è sinonimo di una migliore architettura, quindi una sorta di maggior qualità del componente. Attenzione però a fare una scelta basata su questi numeri di consumo, con l'obiettivo magari di tutelarvi da una spesa in corrente chiaramente maggiore, per due semplici motivi. Come detto poco fa, il consumo cambia in base al modo in cui usate il computer, quindi avere un dato di minimo e massimo non serve a un granché, a meno che non abbiate intenzione di tenere semplicemente il computer acceso, lì senza far niente, quindi consumo minimo, o di tenerlo costantemente sotto massimo carico. Situazione limite, soprattutto quest'ultima, che può esistere ma principalmente in un'ottica professionale, come ad esempio un computer fatto per, che ne so, generare 24 ore su 24, rendering o fare calcoli scientifici, però chiaramente questa non è la situazione in cui ci troviamo tutti noi normalmente. Quindi in tutti gli altri casi, con tutti i vari alti e bassi, è probabile che due computer simili, ma con un processore che consuma di più da una parte, uno che consuma di meno dall'altra, su un test reale, su un lungo periodo con applicazioni reali, finiscano con insegnare numeri di consumi, e quindi una spesa in corrente, molto simile, poiché il tempo in cui sono soggetti a carichi, che pongono entrambe le macchine sugli stessi livelli di consumo, sono molto probabili e prolungati nel tempo. E secondo motivo, occhio che pochi watt di differenza, anche su un orizzonte temporale lungo di un anno, e anche in questo periodo storico dove l'elettricità costa molto, fanno una differenza molto limitata in termini di euro nella bolletta. Tutto questo ragionamento per dire che non dovreste far pesare questo dato troppo sulla bilancia della vostra decisione. Questa sembra più una leggenda metropolitana, ma a quanto pare la gente se lo chiede, quindi sfatiamo questo mito. Non c'è alcun motivo o credenza per dire che con un processore AMD bisogna abbinare una scheda grafica AMD, mentre storicamente con Intel si abbinava una scheda grafica Nvidia. Non so veramente quanti credano a questa cosa, ma smettetela di crederci se siete tra questi. Non c'è alcun senso dietro a questa affermazione. e per estensione non esiste nemmeno il funziona meglio con questo abbinamento. No, ci sono degli standard, standard che vengono rispettati e che evitano queste cose. Dedichiamo 30 secondi anche a questa cosa. Quando si inizia a dire che AMD è meglio di Intel o Intel è meglio di AMD, io vi dico, il mio consiglio è non credeteci. Perché nonostante esistano dei casi dove l'una è meglio dell'altra, dare questa affermazione a livello generale come se fosse una verità totale è sbagliato. Per un uso generico, ad oggi i processori AMD sono buoni tanto quanto quelli di Intel e viceversa. Sto parlando di prestazione pure in uso generico. Poi, se volete mettere a fare le pulci, ad esempio sul consumo, come detto poco fa, allora potreste certo trovare delle differenze, ma vi assicuro che vi starete concentrando su cose un po' futili nella visione generale. Detto questo, esistono delle specificità di ogni processore che possono rendere migliore o peggiore in una determinata applicazione. Se ad esempio usate il computer per fare un determinato lavoro con quel tal programma di grafica, di montaggio video, di modellazione in 3D, quel software professionale e via discorrendo, in questo scenario ha senso effettuare una ricerca su dei test per capire quale tra le due architetture messe in campo d'MD o Intel danno il meglio con quel determinato software e di conseguenza compiere una conseguente scelta. Ma dire per partito preso che l'uno è meglio dell'altro è un'affermazione da fanboy, non da una persona che vuole analizzare i dati in maniera oggettiva. Quindi diffidate da chi fa affermazioni del genere come se fossero l'unica verità di questo mondo. Ho sentito anche la frase del ma se monto male il processore, mi brucia tutto il computer, che magari dovremmo tradurre in se riesci a montare male il processore, dato che può entrare in una sola direzione, certo spacchi tutto, ma non bruci niente. Intendo dire che per quanto riguarda l'installazione corretta o meno del dissipatore, c'è questa pura che il suo cattivo montaggio possa veramente far prendere fuoco al computer perché il ragionamento è non dissipa, il processore arriva a temperature elevatissime e prende fuoco. Bene, posso tranquillizzare tutti che quantomeno nei computer moderni, con schede madri moderne, il che significa ormai da tanti anni a questa parte, un dissipatore montato non benissimo non fa prendere fuoco al processore, poiché chiaramente esistono dei sistemi di controllo e di allarme che arrivano addirittura a spegnere il computer stesso se necessario quando vengono rilevate delle temperature troppo alte. Certo non è qualcosa di molto salutare, ma un dissipatore non montato perfettamente non darà fuoco al processore. In questo caso, quando si sente questa cosa, si fa riferimento ai sistemi AMD in generale, cioè motherboard e CPU, e si intende dire che un computer AMD dura di più, cioè se compri un computer basato su un processore AMD e una scheda madre conseguente, avrai la possibilità di aggiornarlo in futuro cambiando solo il processore e non tutto il resto. Questa affermazione è data dalla storicità perché in passato la storia vuole che Intel cambia ancora oggi socket e chipset più spesso, quindi il passaggio tra alcune generazioni di processori necessita anche il cambio di motherboard perché fisicamente i nuovi processori non sono compatibili, non si possono installare sulle motherboard più vecchie. Questi sono dati oggettivi e sono effettivamente veri. Io tuttavia voglio dare una lettura più approfondita di questa situazione, sempre, come dire, per darvi le armi necessarie per capire che cosa acquistare. Abbiamo tre punti da valutare a riguardo. Il primo è che, nonostante questa cosa, come detto, sia vera, a volte i nuovi processori, anche su piattaforma OMD, non offrono al massimo delle prestazioni sulle nuove motherboard poiché nuove tecnologie richiedono anche delle controparti fisiche nelle schede madre. Ciò magari porta alla possibilità, sì, di aggiornare la piattaforma con la nuova CPU, ma con delle limitazioni, quindi non sfruttare tutto quello che offre la nuova CPU. Il secondo punto è che non potete dare per scontato che qualsiasi motherboard venga aggiornata, in termini di UEFI, per ospitare i nuovi processori. Se acquistate una scheda madre di fascia alta, avrete ottima opportunità di un aggiornamento futuro a nuove linee di processori. Se ne prendete una di fascia media avete buona opportunità. Se scendete sotto la fascia media le possibilità diminuiscono. Inoltre, queste possibilità diventano sempre meno a mano a mano che le piattaforme invecchiano. Terzo punto, che probabilmente è il più importante, è una domanda che dovreste farvi. Ma ogni quanti anni, ogni quanto avete intenzione di cambiare il PC? Magari una scheda grafica si cambia più spesso, ma la scheda madre del processore, quest'ultimo soprattutto, voglio veramente cambiarlo ogni anno? E quante prestazioni in più potrò avere con l'aggiornamento del processore da una generazione all'altra? Vi rispondo io. Mediamente poche. Ecco, se l'idea è di tenere una base di un PC per almeno tre anni o poco più, che è un tempo in cui il PC per quanto riguarda la scheda madre del processore rimane totalmente valido, che sia Intel che sia AMD, comunque, dopo questo lasso di tempo, vi troverete ugualmente a cambiare tutto, spesso anche le memorie. Quindi, a meno che non siate super appassionati, che vogliono sempre, ogni sei mesi, ogni anno, l'ultimo prodotto nuovo e fiammante, chiaramente, questo concetto perde valore. Bene amici, io mi fermo qua, penso di aver toccato più punti, adesso sicuramente siamo più coscienti di cosa considerare, come filtrare le cose che ci vengono dette se vogliamo cambiare il processore. Fatemi sapere se vi piace un video di questo genere, perché sono partito con il CPU, ma posso farlo sulle schede, ma le schede grafiche, insomma, su tutti gli altri componenti. Lasciatemi un commento qui sotto, lasciate anche un mi piace, e noi ci vediamo in un nuovo video. Ciao!